Non arrivano buone notizie per l'esordio in campionato della Juve Stabia. Il sopralluogo allo stadio Romeo Menti per tentare di evitare la trasferta a casalinga della Juve Stabia contro il Mantua prevista per il 28 agosto ha dato esito negativo. Attualmente la partita dovrebbe svolgersi a Piacenza a causa della mancata agibilità del Menti per giocare le gare di Serie B. All'incontro hanno partecipato l'amministratore unico Filippo Polcino, il sindaco Luigi Vicinanza, l'ansessore allo sport Nunzia Canfor e altri rappresentanti comunali. Durante il sopralluogo si è fatto il punto sui lavori necessari per soddisfare le prescrizioni stabilite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza che aveva redatto un verbale lo scorso 19 luglio 2024. Questi lavori sono essenziali per rendere nuovamente agibile lo stadio. Il presidente della Juve Stabia Andrea Langella ha espresso preoccupazione per l'inagibilità attuale dello stadio ma mantiene la speranza che si possano trovare soluzioni per evitare la partita a Piacenza. Langella ha sottolineato come giocare una gara interna lontano da casa rappresenterebbe una sconfitta per tutti ma ha fiducia che le istituzioni possono compiere uno sforzo e permettere alla squadra di giocare a Castellammare. Intanto sul fronte del mercato la Juve Stabia e Crotone stanno lavorando uno scambio di calciatori. Riccardo Spaltro, esterno destro classe 2000, potrebbe trasferirsi in Campania mentre Mario Aprea, un giovane del 2005, potrebbe fare il percorso inverso verso la Calabria. Tuttavia Spaltro non dovrebbe rimanere a lungo nella Juve Stabia poiché Club Campano intende girarle in prestito altrove per garantirgli maggiore continuità di gioco.